Musica Teggiano, giovane studentessa, le prese con la connessione internet con il maltempo ha perso importanti corsi universitari. Maltempo, rischio, sondazione, interventi dei mezzi meccanici del Consorzio di Bonifica limitano i danni, si teme la prossima ondata. Polla, illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi nella zona industriale. Santa Barbara, oggi la festa dedicata alla protettrice dei Vigili del Fuoco, cerimonia Salerno. Sala Consiline, il pacco d'amore, solidale, l'iniziativa di Alexandra Vancolle. Buonasera e bentrovati con il nostro consueto appuntamento con l'informazione di Uno News. Apriamo occupandoci di scuola ma soprattutto di didattica a distanza con le difficoltà che vivono ogni giorno gli studenti valdianesi. Un anno difficile per i giovani impegnati con la didattica a distanza, soprattutto per le aree marginali come può essere il Vallo di Diano, dove in molti comuni tuttora è difficile poter avere accesso alla connessione ultraveloce. Ciò preclude anche uno dei diritti fondamentali dei giovani, ossia il diritto allo studio e ad una adeguata e pari formazione. Una giovane studentessa di Teggiano, Roberta Benvenga, racconta la sua esperienza, che l'ha vista impegnata con la didattica a distanza prima nell'ultimo anno delle scuole superiori e ora anche in questo primo anno di scuola di università. Il maltempo, racconta la giovane, mi ha impedito di seguire corsi fondamentali per il mio percorso universitario. Vediamo. Connessioni efficienti al tempo del Covid rappresentano anche gli unici mezzi per poter assolvere i propri doveri lavorativi o di studio, oppure per poter restare a passo con il mondo che in altre parti va avanti veloce. Se le connessioni internet non sono veloci ed efficienti, resti indietro. Quanto accade a Roberta Benvenga, giovane studentessa di Teggiano, mette in chiara luce i problemi con cui quotidianamente devono fare i conti i ragazzi che nel ventunesimo secolo cercano di costruirsi il futuro attraverso lo studio e la formazione. In una lunga lettera, la giovane Roberta racconta come, a seguito del maltempo di questi giorni, si è ritrovata priva della connessione ad internet necessaria per poter seguire i corsi universitari da casa. Ricordando come l'ultimo anno è stato caratterizzato da un radicale cambiamento delle abitudini di vita quotidiana e da nuove metodologie di studio e di lavoro, sottolinea come anche nel centro storico di Teggiano tutti hanno cercato di adeguarsi alle nuove regole ma ciò non sempre è stato possibile anche perché nel centro storico di Teggiano come in altri comuni del Vallo di Diano, per quanto si parli di arrivo della fibra, ad oggi pare non è ancora possibile accedere al servizio. Io ho iniziato l'università ad ottobre, ma posso parlare di vita a distanza in quanto anche l'anno scorso ho seguito molte lezioni a distanza. La situazione non è delle migliori, soprattutto per noi che viviamo in questi piccoli paesi in cui la connessione non è delle migliori e ci troviamo molto in difficoltà a seguire le lezioni, a dare esami o anche a fare dei test in quanto di tanto in tanto l'università vengono somministrati dei test per valutare lo studio che uno studente fa. Io frequento una facoltà linguistica e ho perso delle lezioni d'inglese che sono obbligatorie perché se non frequento un po' di lezioni non posso essere ammessa all'esame. Quindi insomma si preclude anche il tuo percorso di studio universitario in questo modo? Se la DAD va avanti così sì. Ho scritto questo mio pensiero di denuncia soprattutto perché ho la speranza che qualcuno faccia qualcosa perché io parlo dal mio punto di vista però se nessuno fa nulla e ci aiuta cosa possiamo fare noi? Diventa complicato se non abbiamo qualcuno che ci sostiene ma non perché ci mancano le idee o ci manca la voglia di farlo. Non tutti possono adeguarsi ai processi di evoluzione tecnologica soprattutto perché sono ancora troppo evidenti e marcate le differenze tra territori in particolare quando si parla di connessione alla rete. Quando queste differenze vengono a galla durante le attività didattiche emerge anche una chiara difficoltà a vedersi riconosciuto uno dei diritti fondamentali della persona e dei giovani il diritto allo studio. E restiamo in tema scuola e diritto allo studio perché è intervenuta anche l'unione degli studenti del Vallo di Diano che chiede l'approvazione a livello locale e anche nazionale di una carta dei diritti affermando che la scuola e il diritto allo studio restano una priorità anche in didattica a distanza. Vediamo. Una carta dei diritti per garantire agli studenti e alle studentesse che vengano rispettate le proprie necessità anche in didattica a distanza. L'unione degli studenti del Vallo di Diano ne chiede l'approvazione a livello nazionale da parte del Ministero e a livello locale da parte degli uffici scolastici regionali, dirigenze e consigli di istituto perché, affermano con forza, anche in DAD pretendiamo il rispetto dei nostri diritti. Gli studenti valdianesi chiedono che al rientro in aula vengano garantiti la sicurezza strutturale di tutti gli edifici scolastici e un finanziamento complessivo per la risoluzione dei problemi legati all'istruzione e alla sua accessibilità da parte di tutti. Otto i punti affrontati dalla carta proposta dal diritto allo studio all'alternanza passando per l'organizzazione della didattica il tema degli studenti lavoratori, la partecipazione studentesca fino alla valutazione, salute e benessere. Affermando di voler assumere un ruolo centrale nelle scuole facendo sentire la propria voce, gli studenti valdianesi ricordano che molte sono state le battaglie a cui hanno preso parte dando vita sul Vallo di Diano ad una forte e importante rete di comunicazione e scambio di idee. Sono ormai mesi che gli studenti e le studentesse italiane stanno affrontando il loro percorso scolastico a distanza. La DAD affermano ci ha permesso di continuare ad accedere all'istruzione nonostante l'epidemia ma sono numerosi i problemi che i soggetti in formazione del Vallo di Diano hanno affrontato e stanno affrontando. La DAD continuano, ha messo in evidenza anche grandi differenze sociali che per molto tempo hanno impedito ai ragazzi e alle ragazze di accedere tranquillamente alla didattica a distanza problema a cui molte scuole del Vallo hanno sopperito garantendo device e connessione per non far rimanere indietro nessuno. Il nostro obiettivo, concludono, si focalizza sempre sulla priorità alla scuola e sul diritto allo studio. Cambiamo ora argomento, parliamo del maltempo. Nella giornata di ieri, forte rischio esondazione per il fiume Tanagro a causa delle intense piogge. Un rischio che ha spinto il comune di Sassano ad emettere l'ordinanza di chiusura del tratto lungo Ponte Cappuccini sulla strada provinciale Trinità-Assilla seppur rientrata a seguito anche del lieve miglioramento delle condizioni meteo, si teme comunque la prossima ondata e dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano-Tanagro le partono le sollecitazioni agli enti competenti per intervenire ed evitare i rischi. Vediamo. Si è temuto il peggio ieri a causa delle intense piogge che si sono abbattute su tutto il territorio della regione Campania coinvolgendo anche l'area del Vallo di Diano. Sorvegliato speciale il fiume Tanagro che sin dal mattino aveva raggiunto e superato il livello massimo di acqua che ha fatto temere il peggio visto il perdurare del maltempo. I tecnici del Consorzio di Bonifica sin dalle prime ore del mattino hanno perlustrato tutto il territorio monitorando in particolare le aree che presentavano maggiori rischi e sondazione. Addestare maggiore preoccupazione il punto del fiume che attraversa il territorio di Sassano ed in particolare il tratto del ponte Cappuccini. Sorvegliato speciale per tutta la giornata di ieri con un attento monitoraggio finalizzato anche alla tutela dell'incolumità delle persone vista l'arteria particolarmente trafficata ma anche delle abitazioni ubicate nei pressi del fiume con seri rischi in caso di sondazione. Nella serata dal comune di Sassano visto il protrarsi della pioggia e l'avvicinarsi dell'oscurità è arrivata all'ordinanza di chiusura dell'arteria stradale con il divieto di transito per rischio e sondazione. Nell'ordinanza è stato specificato come la competenza sul tratto del fiume riservata al genio civile e alla regione Campania che l'alveo risulta essere pieno di detriti e sabbia che hanno provocato anche l'inalzamento del livello dell'acqua. A segnalare la chiusura apposita segnaletica con la presenza del personale dell'Associazione di Volontariato l'Orchidea Emergenza che è rimasta sul posto anche per assistere i tecnici del Consorzio di Bonifica che hanno effettuato piccoli interventi di urgenza utili a ridurre i rischi in fase emergenziale. Il personale dell'ente consortile infatti secondo quanto è spiegato dal Presidente Curcio ha effettuato diversi piccoli ma risolutivi interventi con mezzi meccanici che hanno consentito di rimuovere le ostruzioni createsi per effetto delle piogge in alcuni canali. Nonostante la gravità dello scenario idrogeologico spiegano la rete di canali e anche il corso del fiume Tanagro ha retto sostanzialmente bene alle sollecitazioni conseguenti alle intense e prolungate piogge. I lavori di manutenzione seguiti su tutto il territorio del Vallo di Diano con particolare riferimento nei territori di Sassano e Teggiano continuano dal Consorzio hanno consentito di garantire la tenuta idraulica della rete e di scongiurare allagamenti nelle aree di pianura del comprensorio. Il personale e i mezzi del Consorzio coadiuvati anche dall'egregio servizio attuato dai volontari della protezione civile rimarranno a presidio del territorio. Consapevoli del giustificato allarme della popolazione locale spiegano che teme il peggio per effetto di questi eventi alluvionali eccezionali stiamo lavorando su un'ampia progettazione finalizzata a rimuovere strutturalmente situazioni di criticità idraulica in gran parte addebitabili a decenni di assoluto abbandono. Abbiamo, sottolineano in conclusione, reterato alla Regione la richiesta di finanziamento del progetto sul fiume Caloretanagro che costituisce la vera priorità per il nostro territorio. Ancora mal tempo ma ci spostiamo nell'area più a sud della provincia di Salerno e precisamente nell'area del Golfo di Policastro del Basso Cilento ancora una volta colpito dal mal tempo tra i comuni maggiormente raggiunti dalle forti piogge che hanno provocato anche un nubifragio il comune di Sapri dove si sono registrati allagamenti in diversi punti della città ed in particolare in piazza Plebiscito via Kenne di Rione Trovatella e in piazza Regina Elena. Vetture e pedoni sono stati sorpresi da una bomba d'acqua per fortuna senza particolari danni alle persone. Il sindaco ha subito allertato il centro operativo comunale per gestire una situazione complessa in cui hanno dato una mano anche ai volontari della protezione civile del Vallo di Diano e precisamente di Padula. Allagamenti si sono ancora una volta registrati anche a Vibonati e Villa Mare ancora una volta colpita dal mal tempo problemi inoltre si sono registrati anche a Camerota ed in particolare nelle località di Lentiscosa e Licusati le strade sono rimaste impraticabili per diverso tempo inoltre la tempesta e fulmini hanno creato danni anche alle linee elettriche e telefoniche molte abitazioni sono rimaste senza corrente e anche qui tanti volontari al lavoro per ripristinare il prima possibile la situazione. Lasciamo il tema a mal tempo la cronaca ora andiamo a Polla dove si è registrato un sequestro presso un'azienda sita nell'area industriale in particolare sono stati posti sotto sequestro preventivo gli impianti di uno stabilimento per attività illecita nella gestione dei rifiuti smaltivano secondo le ipotesi di reato illegalmente rifiuti speciali pericolosi che venivano scaricati in un affluente del Tanagro come reflui industriali vediamo i carabinieri del Noe di Salerno hanno sequestrato gli impianti di uno stabilimento incontrato a Sant'Antuono nell'area Asi di Polla il legale rappresentante della società dovrà rispondere del reato di attività illecita di gestione di rifiuti per aver smaltito illegalmente rifiuti speciali pericolosi ovvero miscele e solventi nonché per aver scaricato illecitamente in un affluente del Tanagro i reflui industriali provenienti dai processi di lavorazione la zona infatti non è servita da pubblica fognatura e un'ulteriore contestazione è riferita alla conduzione dell'attività industriale in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel corso dei sopralluoghi da aprile-ottobre e incrociati con gli atti amministrativi acquisiti presso gli uffici comunali locali e i dati contabili dell'azienda riferiti fino agli ultimi sei anni i militari hanno rilevato che gli impianti non erano autorizzati e hanno accertato l'illecito smaltimento avvenuto nel tempo di circa 8.000 chili di uno speciale solvente classificato come rifiuto pericoloso al termine di ulteriori sopralluoghi protrattisi fino a ottobre e poi emersi che i reflui industriali vengono immessi in basche riutilizzati per ulteriori processi e non più scaricati nell'affluente ma senza la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli illeciti sono stati verificati a conclusione di accertamenti intrapresi negli ultimi mesi nell'ambito di più ampi indagini tese a reprimere i fenomeni di illeciti sversamenti nell'area protetta del Parco Nazionale del Cirento Vallodidiano e Alburni e plurime violazioni alle norme a salvaguardia delle matrici ambientali Torniamo a Sassano partono i lavori per la riqualificazione delle aree degradate del comune dall'amministrazione comunale l'annuncio dell'avvio dei lavori di recupero della zona dell'ex depuratore comunale in via limiti l'idea è quella di realizzare un percorso fitness e sportivo a cui potranno avere accesso tutti bambini adulti ed anziani al momento i primi lavori sono già iniziati e riguardano essenzialmente le azioni di svuotamento delle vasche e della loro bonifica per l'amministrazione comunale Rubino il recupero delle aree dismesse rappresenta un'opportunità nuova in grado di accelerare la trasformazione del tessuto sociale soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici Mimmo inglese che sottolinea come le opere saranno utili per restituire alla collettività un'area abbandonata che sarà ora invece resa utile e fruibile per tutta la comunità per attività di svago andiamo avanti pubblicato l'avviso per l'avviso di educare in comune contro la povertà educativa e l'esclusione sociale dei bambini in tempo di pandemia l'avviso è rivolto a tutti i comuni e c'è tempo fino al prossimo marzo per presentare la domanda vediamo contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi in un momento in cui l'emergenza sanitaria da covid-19 ha acuito le disuguaglianze le fragilità e i divari socio-economici e lo scopo dell'avviso pubblico educare in comune pubblicato dal dipartimento per le politiche della famiglia è rivolto ai comuni l'obiettivo è promuovere interventi progettuali anche sperimentali che possano contrastare la povertà educativa e sostenere le opportunità culturali formative ed educative dei minori progetti volti a potenziare le capacità di intervento dei comuni in tali ambiti l'avviso prevede risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un finanziamento minimo di 50.000 euro e fino ad un massimo di 350.000 euro le proposte progettuali dovranno valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche cognitive emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti al fine di renderli individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità di appartenenza inoltre i progetti dovranno essere in linea con gli obiettivi del programma pilota contro la povertà Child Guarantee e dovranno essere volti a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia sui bambini e ragazzi tenendo conto degli aspetti relativi al genere all'età e alle provenienze culturali i comuni potranno partecipare all'avviso singolarmente o in forma associata c'è tempo fino al primo marzo prossimo per presentare domanda i progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 12 mesi e ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torneremo tra pochissimo restate con noi bentornate alla seconda parte del nostro Tg oggi 4 dicembre ricorrono anche le celebrazioni in onore di Santa Barbara Santa protettrice dei Vigili del Fuoco ogni anno si era soliti celebrare la ricorrenza anche nel Vallo di Diano e precisamente presso la Chiesa della Santissima Trinità grazie all'impegno del compianto comandante Luigi Morello capo di staccamento e capo reparto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina quest'anno non è possibile a causa dell'emergenza Covid ma nella serata si è comunque svolta una Santa Messa in onore di Santa Barbara presso la Chiesa della Santissima Trinità di Sala Consilina mentre questa mattina a Salerno il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha celebrato la festività e tracciato anche un bilancio di questo anno di attività dei Vigili del Fuoco che sta per concludersi vediamo oggi ricorre la festività di Santa Barbara Santa Patrona dei Vigili del Fuoco nel Vallo di Diano negli ultimi anni la festività di Santa Barbara aveva acquisito un'importanza speciale diventando appuntamento di fede atteso dalle comunità in particolare grazie all'impegno di Luigi Morello nella sua veste di capo di staccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina che ogni anno era solito organizzare le celebrazioni religiose in onore della Santa Protettrice davanti alla Sacra Efficie custodita presso la Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina dove è anche presente una reliquia della martire un appuntamento a cui Luigi Morello deceduto lo scorso marzo a causa del Covid teneva fortemente ma che purtroppo non potrà svolgersi visto il diffondersi dell'emergenza epidemiologica tuttore in atto presso la Chiesa della Santissima Trinità però Don Gabriele Petrocelli seppur con le dovute misure di sicurezza e rispetto delle normative prosegue nella tradizione e per evitare assembramenti ha deciso di programmare due messe in onore di Santa Barbara oltre all'appuntamento di questa mattina nella serata alle 19 una Santa Messa celebrerà la ricorrenza dedicata alla Santa Patrona dei Vigi del Fuoco e dei Fuochisti oltre che protettrice contro i temporali e i fulmini intanto i caschi rossi questa mattina presso il Comando Provinciale hanno celebrato la Santa Patrona e in tale occasione la Comandante Ingegnere Rosa dell'Iseo ha tracciato un bilancio di questo anno 2020 legato alle attività dei Vigi del Fuoco su tutto il territorio provinciale Com'è passato quest'anno? È stato un anno tremendo devo essere sincera già oggi per esempio ovviamente faremo un festeggiamento sottotono perché le regole ovviamente del distanziamento del non assembramento ci impongono ovviamente il rispetto e quindi però comunque è un momento in cui dobbiamo festeggiare dobbiamo darci assolutamente coraggio e forza per andare avanti e affrontare nel miglior modo possibile il nostro lavoro questa volta dobbiamo difenderci non tanto dal pericolo esterno che siamo abituati ad affrontare ma dal pericolo interno del contagio abbiamo lavorato lo stesso anche quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo fatto poco meno di 500-600 interventi sono interventi ovviamente per lo più caratterizzati da emergenze temporali nel senso che il classico incendio capannone incidenti stradali non ce ne sono stati tanti quest'anno ovviamente legati all'attività anche di chiusura purtroppo di talone attività e quindi di lockdown ma gli interventi sono stati lo stesso tanti per colpa del maltempo del vento che quest'anno ha sferzato tantissime volte la provincia di Salerno oggi festeggiamo Santa Barbara con l'augurio a tutti i miei vigili del fuoco di farsi coraggio e di affrontare sempre nella maniera più corretta più giusta il loro lavoro a tutela delle persone il centro benessere per te lancia una simpatica iniziativa solidale il pacco d'amore solidale un dolce pensiero di questo Natale segnato dalla pandemia per far sentire la propria avvicinanza alle persone meno fortunate il pacco dovrà contenere una cosa calda una golosità un prodotto di bellezza ed un biglietto gentile vediamo parte dal centro benessere per te l'iniziativa il pacco d'amore solidale un'idea semplice per stare il più vicino possibile ai meno fortunati e a chi sta vivendo in solitudine questo periodo difficile segnato dal covid mandare un messaggio di gioia e speranza a coloro che vivono momenti di estrema difficoltà è questo lo spirito che ha spinto Alexandra Vancolle di Sala Consilina a fare qualcosa di concreto per i più bisognosi l'iniziativa pacco d'amore ha lo scopo di rendere speciale il natale di tutti attraverso un dono che sia utile e che scaldi il cuore di chi lo offre e di chi lo riceve Alexandra in passato risultata positiva al covid ha attraversato un periodo molto difficile ma non si è mai scoraggiata soprattutto perché non si è mai sentita sola durante il lungo periodo di isolamento tra sconforto e paura è riuscita grazie all'inesauribile affetto ricevuto a superare tutte le difficoltà che il covid comporta la forza dell'amore e l'affetto delle persone che hanno avuto un pensiero per me nei momenti di difficoltà racconta Alexandra non si possono descrivere con semplici parole ragion per cui la mia attenzione va ai meno fortunati bimbi adulti malati ed anziani soli l'idea è quella di confezionare un pacco di natale da regalare più bisognosi con all'interno un indumento caldo una cosa golosa un passatempo e un prodotto di bellezza il materiale nella scatola deve essere nuovo o comunque pulito ed in ottimo stato in ultimo ma forse il più importante è un biglietto gentile perché le parole valgono anche più degli oggetti e sarà la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola incartata e decorata va scritto in un angolo il destinatario del dono donna uomo bambino e anziano aggiungendo la fascia di età il gesto costa pochissimo dicono gli organizzatori il tempo dedicato non è niente ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa facciamo una cosa bella da ricordare in quest'anno 2020 catastrofico e aiutiamo chi ne ha più bisogno la raccomandazione di Alexandra preparare il pacco con il cuore come se dovesse riceverlo una persona che ami chiunque voglia unirsi a questa iniziativa piena d'amore potrà consegnare il suo pacco entro il 19 dicembre presso i punti di raccolta a Sala Consilina presso il centro benessere per te parrocchia di Sant'Anna parrocchia di Sant'Antonio mentre a Silla di Sassano presso la parrocchia della Beata Vergine di Pompei il MIBACT ha pubblicato l'avviso Borghi in Festival per la rinascita dei piccoli comuni puntanto a incentivare il turismo di prossimità quale opportunità per sostenere l'economia locale e online l'avviso del MIBACT Borghi in Festival per il finanziamento di attività culturali che migliorino la qualità della vita degli abitanti dei piccoli comuni italiani mette a disposizione 750 mila euro per sovvenzionare iniziative culturali da realizzare in realtà con popolazione residente fino a 5 mila abitanti o fino a 10 mila abitanti per gli enti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea l'emergenza coronavirus ha portato ad una rivalutazione del turismo di prossimità quale opportunità per sostenere l'economia locale e il bando Borghi in Festival si inserisce in questo contesto promuovere località ancora sconosciute come Borghi incentivando progetti di rigenerazione dei territori i comuni che rispettano i criteri indicati possono partecipare singolarmente o in rete il finanziamento erogabile prevede un limite massimo di 75 mila euro per i comuni che partecipano singolarmente 250 mila per quelli che partecipano in rete la volontà espressa nel bando è di incentivare dinamiche collaborative quindi progettualità basate su approcci integrati tra abitanti istituzioni pubbliche soggetti privati locali enti no profit tra le attività finanziabili incontri seminari laboratori attività di formazione con specialisti e professionisti la realizzazione di piattaforme digitali mostre rassegne eventi innovativi per la fruizione del patrimonio culturale gli enti che intendono partecipare hanno tempo per l'elaborazione dei progetti fino al prossimo 15 gennaio la programmazione deve essere pensata nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da covid e i festival vincitori potranno essere realizzati da aprile a luglio ed era questo l'ultimo servizio di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti